Qualche difficoltà già in partenza per Pettirò Soget, mentre dall'esterno prova a partire molto svelta Pallottola Blizz, 20 e 99 la sua quota, ed assume un po' a sorpresa l'iniziativa. Giacomo Sansevrino dunque al comando a seguire l'uno di Pigreco Criff, che però si prende una bella ruotata e sbaglia, almeno questa è stata la mia impressione. In seconda posizione va dunque Plaza OR, mentre all'esterno avanza Viaggialo Verde con la sua Paella, abbastanza seguita al gioco, paga 7,78. Dunque, quando i cavalli imboccano la retta delle tribune è Paella a guidare nei confronti di Pallottola Blizz e Plaza OR, mentre ha sbagliato, come ho già detto, Pigreco Criff ed anche Pettirò Soget ha avuto qualche problema in partenza, adesso cerca di venire avanti. Mentre non si hanno notizie, almeno per il momento, della favorita al gioco, il numero 6, Persephone Valm. Avanza adesso all'esterno, mentre sempre Paella a guidare nei confronti di Pallottola Blizz che è stata la più sverta via, avanza adesso il numero 9, se non vado errato, il numero 9 di Priamo Caff con Gaspar Ello Verde, un cavallo anche lui con qualche simpatia al gioco, seguita da Plaza OR che ha lasciato lo steccato lasciandola al numero 5 di ProSlide Falum, mentre il numero 10 di Petronia Caff sembra un po' in difficoltà. Continua a guidare Paella in maniera abbastanza tranquilla, con all'esterno il compagno di allenamento Priamo Caff, più indietro Pallottola Blizz, mentre gli altri stentano un po' tutti a farsi avanti. Ci prova adesso, all'argo di tutti, il numero 11 di Persephone Jet, ma viene anticipato da Plaza OR ed anche da Petronia Caff, quindi un bel mucchione sull'ultima curva con tutti i cavalli molto raggruppati, si entra in retta d'arrivo con Paella ancora al comando, al suo esterno Priamo Caff, ancora più a largo Plaza OR, arriva molto convulso, sembra poterla spuntare Plaza OR, ma Priamo Caff reagisce e sul palo è proprio Priamo Caff ad avere ragione di Plaza OR, in un arrivo, ripeto, molto serrato, mentre per il terzo posto, se abbiamo visto bene, dovrebbe essere il numero 15 di Panera B, ad avere la meglio. Dunque arrivo abbastanza sorprendente, anche se i due cavalli ai primi due posti sono discretamente seguiti, ha vinto Priamo Caff, cavallo che corre per il training di Biagiolo Verde.